Se guardandoti allo specchio hai impressione che gli angolini della bocca non siano più rivolti verso in su ma stanno girando sempre più verso il basso, allora ho l'esercizio giusto per te. Ecco cosa devi fare, unisci la bocca come per dire M e poi con la bocca serrata inizia a sollevare gli angolini su ovvero inizia a sorridere ma assicurati di tenere le labbra ben appiccicate e poi premi con le dita sugli angolini per fare un po' più di pressione e per andare a tonificare i muscoletti. Con questo esercizio non solo ti assicurerai di avere gli angolini della bocca avvolti verso su ma anche il labbro superiore sarà più turgido e più voluminoso.